Il nostro parco, che è un parco più importante in Italia, lo dico alla presenza del ministro Galletti che avreste saluto con grande affetto, alla presenza della dottoressa Giarratano, del dottore Fulvio Famore, noi abbiamo un parco che non solo è il più grande in Italia, ma è l'unico parco al mondo ad avere quattro riconoscimenti unesco. È un parco che in termini di biodiversità, paesaggio e ambiente non è assolutamente secondo a nessuno e i sindaci che sono più presenti, agli amici che sono più presenti lo possono testimoniare. La prima guida, dedicata interamente al Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, è stata dunque presentata ufficialmente alla presenza del direttore delle guide di Repubblica, Giuseppe Cerasa, del presidente del Parco Tommaso Pellegrino, del direttivo del Parco Nazionale del Cilento, Cono Delia e Vincenzo Inverso, Cristina Giovagnoli, del direttore Romano Gregorio. Hanno partecipato inoltre i rappresentanti del mondo della politica, della società civile, del giornalismo e dello spettacolo. Siamo molto soddisfatti del percorso intrapreso a detto Ceraso alla numerosa platea. Abbiamo lavorato con entusiasmo e passione verso un territorio che amiamo particolarmente. La guida più venduta in assoluto stiamo andando verso una ristampa, dal momento che in pochi giorni sono state vendute il 70% delle copie. Resterà nelle edicole per tutta l'estate ed è disponibile acquistarla anche in libreria ed online. Abbiamo superato di gran lunga le stime che avevamo ipotizzato e stiamo lavorando ad un progetto per farla uscire fuori dai confini italiani tradotta in altre lingue. Una notizia che non sorprende il presidente Pellegrino. Ci abbiamo creduto sin dall'inizio, dichiara Pellegrino, un progetto che non poteva non decollare. Sin da quando ne abbiamo parlato con il direttore, ero sicuro che sarebbe stato un successo. Sono orgoglioso che il nostro territorio abbia la vetrina nazionale che merita pienamente. Grazie alla lungimiranza del direttore Cerasa stiamo già lavorando per portare la guida in Cina, ovviamente tradotta negli Stati Uniti, dove sono presenti numerose comunità del nostro territorio che già ne hanno fatto richiesta. La guida sarà presentata a Villa Matarazzo il prossimo 25 luglio alla presenza dei sindaci e dei produttori del territorio. Un evento aperto al pubblico a cui potranno partecipare tutti coloro che sono interessati a conoscere da vicino il progetto della guida e i suoi protagonisti.